Sì, rimischia, rimischia. Volete che rimischio? Sì, rifai un altro giro e vi. Fisemi stop. Stop! Schiopo, grazie Vicento. Siuscia, Pietro e Zermone, bentornati. Gianco, Fazzone, Manu, GdSQ. Vai Fazzone, fai tu lo Spy Master. Lo faccio io, va. Dio, chi ci vuole annà? Vai Malu, fai te, fai te, fai a Fabio. Devo farlo io? Non è il maestro che mi vuole sempre indovinare. Dai, faccio io. Questo è team scimmie. Fabio Vallura però è molto... Vediamo un po'. È molto sottile, eh. Che cosa? Mi è muto, tocca subito pensare. Sound muted. Allora, che c'avemo? Talpa, coperta, infermiera. Ma sono mutato, non è che ho detto. Ok. Giro, Natale, oste, asino, polmone. Tessuto, quartiere, un satellite, dica, pupazzo di neve, corona. Cioè, abbiamo Natale, io e lui c'ha pupazzo di neve. Allora, tipo talpa, talpa coperta. Eh no, c'è Sosia. Perché puoi rimettere spia, però Sosia non va bene. Ah, Gemma, cazzo di 23. Tessuto, promozione, aspetta che mi lascio il luogo smutato. Su, lo farò. No, te la lascio come parola finale. No, no, no. Ok. Mazza che brutte parole, sono difficili, eh. Tra boh, bentornato. Matte, bentornato e stallamo. Maestro, se non la clicchi, non ti faccio mai più il sub. Non me l'hai mai fatto. Ma, oh, regà, attenzione, perché io so, io so che tecnicamente... Eh no, sto di solo ormai, è stragiato. Ah, si tolgono il premio tra tre giorni. No, tecnicamente, stanotte, forse dovrebbe aver già droppato una nuova mappa del gioco delle palline. Il tizio. Sì, è andato da azzazzone, sì, da azzazzone è andato a scrivere in chat che droppavano una nuova mappa. Mio fratello. Quel corona di merda lì. Vabbè, intanto vediamo che parole gli tolgono loro, poi ci pensiamo. Poi ci pensiamo. Però se continui a dire così, le mie sponsorship poi vanno a puttane. Pneumologo. Pneumologo, che è, polmoni, polmoni infermiera, tipo. C'è un tecler maestro. Eppure oggi mi devo segare, non c'è la puttana. In che cosa questa? La Juve è decima, raga. Decima che a Fiorentina. La Juve sta attaccata a Bologna, eh. Mh. Giammo, quello sta con quello e quell'altro. Non so io che devo scriverte la parola rincoglionito. Gabbile, grazie per i tre. Double twist, grazie per i quattordici. Ci abbiamo delle idee. 20 secondi. Ci ho delle idee in mente. Puzza, la mia sciola non ha senso di adorare così forte e duro. E' schifo. In che senso duro? Dura. Odora di duro. L'ospedale non lo posso mettere, mettono corona. La merda. Oh, la benzina. Fantasy. Ok, mi dici fantasy, bro? Ah, fantasy. Fantasy, ok. Magia, I guess it's one of them. Già, ma tu sei con noi, ti ricordo, eh. Ah, sì, sì. Scusa, stavo facendo una cosa stupida. Guarda, è magia l'apio stupido. Fantasy 3. Ok, magia. Allora, poi... Vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Cascate, carie, talpa, coperta, corona. Storia ci sta. Storia, fantasy. Sì, storia ci sta, però aspetta, non cliccamo. e... Storia e guardiano. La mia paura potrebbe... Allora, non è, eh. Non è. Pupazzo di neve, eh. C'era un film molto famoso. Eh, di Super Froze. No, ma c'era un film molto famoso del Pupazzo di neve che poi era tipo il padre, capito? Una cosa del genere, che quella è ovviamente fantasy. È un film molto famoso, però non penso. Mi sembra un po'... Ma il gatto, tu stai? Jack Frost, bravo. Vabbè, micio. Micio. Magma non è... Satellite, non mi sembra. Ma però la storia mi sembra quella più probabile. Sta per saltare sul tavolo e fa un macello. Gabbo di square di in bassa a destra, signor. Gabbo di square di in bassa a destra, signor. Non c'è una storia fantasy. Ma infatti... Vabbè, vabbè, vabbè. E ricordiamoci che abbiamo due parole di storia. Io voglio... 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 Voglio iniziare nel Cile. Io farei... Io farei... Bar 2. Oste... Oste... E giro. E col bar non c'è nient'altro. Ah, più che altro veramente ne vedo poche da da panco. Oste e giro... C'è birra. Come c'è birra? Vabbè, però dai, magari non c'aveva un cazzo di meglio e ci ha provato così. Vabbè, cil, 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 cil. Beh, fai un giro al bar. Così che Gabile è bentornale. Benvenuti. Toschi, grazie. Una... Corona è una birra. Porco Dio sto corona de merda. Morfazzone citerai e farà quattro lettere, cioè quattro, quattro lettere e tre. Che so, oste, oasi e dia. Ma è vero, il fazzone fa sempre queste cose strane, il maniaco. Ma che poi non varrebbe come quello. Dai, iniziamo a lavorare nel cello. Ma vado a aver messo tipo gli? Animali due, facciamo dai. Questo potrebbe essere tessuto veramente fantasy. Beh, facciamo animali due. Animali due. Animali due. Vabbè, asino. Com'è che si fa a selezionare, raga? Non cliccare sulla, non cliccare sulla mano. Vabbè, dai, apriamole subito. C'era delfino, non l'hanno visto. Bene, va bene. Oddio, era nostra! Te l'avevo detto io! Questo l'avevo detto io che tessuto era nostro. Questo adesso mi obbliga a fare la sparata, lo sarebbe. Non l'avevo visto delfino. Io l'ho fatta, io l'ho fatta, mi obbliga. Prendi quella cursa Edmar, se lo prendi. Vedete il gatto, porco Dio, sta fa il panico. Ho l'occhio, ho l'occhio. Ma la domanda adesso è che, e Fabio non ce lo può dire, non avremo mai la sicurezza se magari tessuto lo intendeva come fantasy, quindi adesso il numero che darà, non sappiamo più se fa riferimento a due parole in più o a una. Ah, oddio è vero, era nostra. Eh, Zizi! Oddio, Gianco ci manda tipo in confusione! Perché voglio vedere che se tolgono corona è il panico. Ma animali due e c'è delfino lì anche, what the fuck? E questo era un problema, eh. Ma? Ah! Perché si vede che uno di queste mi sa che era pericolosa. No, probabilmente te l'ha fatta perché pure se sbagliavi non succedeva un cazzo, anzi. E probabilmente è bianca. E probabilmente è bianca. E probabilmente è bianca. E probabilmente è bianca. No, io ma è bianca. Bulletti, boh, vè, bentornati. Gianco però se becchi la nera è un problema, eh. E mi hanno messo da sempre fatto la sparata. Lo fanno anch'io. Non è una questione delle palle, perché pure Vladimir Luxuglia ce le fa. Però non vuol di niente. Ma che sta ladissimo. Ma non è giusto. Però ho messo, mo la devi fare pure tu. No, la farò. Perché io vi ho messo quella che aveva detto Gianco prima. Allora, allora sì. Se mi tolgono corona è perché poi resta pure carie. È un tumore. Sono il mantello e fantasy. Gianco appena intanto ne s'ha accorto. Che ha detto? Non posso mettere malattie 4. Ragazzi, ma più che altro. Allora sai quali sono? Mantello e Guardiano. Guardiano è vero, non l'abbiamo messa Guardiano. Eh no. Di sicuro Guardiano. No, io non sparo più. Come ho messo una blu? Guardiano di sicuro. Guardiano di sicuro. Io non sparo più ragazzi. Sono pericoloso. 8 secondi Fabio Mollura. Ah, mi sono detto da caso. E' una diga. Vajont. E' la diga del Vajont. E quindi ci sarà pure cascata. Ma come Vajont? Probabilmente perché si è rotta. Quindi abbiamo cascata. Ricordiamo di Guardiano. C'è qualcosa che richiama ad una tragedia. Aspetta aspetta. Poteva essere che fosse una sola parola. Perché è molto precisa. E quindi in realtà le altre due sono sempre quelle due The Fantasy. Sì. 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 Guardiano. Ok? Guardiano è The Fantasy sicuro. E mo' secondo me è un'altra The Fantasy. Mantelli! Vabbè, vabbè. 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 Ci sono io in queste cose bianche. Pachi, invecchiato e io vecchio. Aria di Natale. E il maestro però mantiene una parola. Aria è molto bello. Però ti potrebbero più a Corona. Oh, sto Corona si dovrà toglier prima o poi. Il maestro mantiene una parola sempre. Perché fai Aria di Natale. Aria dei polmoni. Te fai un giro per più ad Aria. E poi l'altro qual'era? Boom baby bye. Boom baby bye. Allora marzo forse. Bronchita è Corona. Poteva essere cascata. Sì. Aria 3. Perché è coperta con Aria. Sicuramente è cascata la diga del Vajon. Sicuro. Perché vedendo quello che è rimasto a sto punto per Fantasy forse. A meno che la Corona perché boh la con i re dei personaggi. Ma anche il Natale è un po' Fantasy eh. Aria 3. A sto punto il pupazzo di neve effettivamente. A sto punto è Egari scusami. Egari è insofante. Egari è insofante. Non posso far riga trepo. Allora polmone sicuro raga. Aria di Natale. Beh polmone. Con la coperta ti puoi coprire dall'aria. Aria natalizia brodero. Aveva messo anche Giammo. Vabbè polmone raga io la hito. Prendo la mia responsabilità. Aria natalizia la hito. Mi prendo la mia responsabilità. Ok. Non si rendono conto di questa cosa. Guarda se sei all'ospedale stai male. E poi un'altra. Colore satellite osi. E il Corona. E non ti fa respirare bene l'aria. No zio secondo me è coperta. È coperta è coperta. Secondo me. Con la copertina io mi copro quando c'è un po' d'arietta. Se no mi viene il colpo della strega. Oh coperta. Ma fa culo. Bravo fazone che hai imparato cosa vuol dire essere vecchi. Secondo me non era coperta ma era giro perché ti vai a fare un giro per prendere aria. Dio. No ragazzi. Oddio è pazzo. Mettilo bisso mettilo. Oddio. Ma ti è matto. Fabio devi andare durissimo. Devi andare durissimo. Tu sei illogico. Tu sei senza senso. L'abbiamo gamblata questa si si. assistenza bella assistenza due oppure professioni due mestieri lavori due lavori due che maranza che maranza ti fanno ridere però quando ti scippano le cose non ridi più mi fanno ridere infatti non sono un uomo con m blu dei bit e nome viola mestieri cazzo lavori più che mestieri servitori bello servitori 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 non c'è l'area di promozione se un servitore non c'è tic toc bravo ma grazie per i sette servito servite la corona la domanda del ragazzo è ma come finita con the real marza nicolas grazie di 4 cosa fanno otto cani in mare un canotto un canotto un canotto oddio è pazzo televisione 5 abrizzo corona abrizzo corona oddio queste sono da passarelli sicuro il promozione la televisione pubblicità ok televisione a colore l'avete intata mestieri quelle leo è uguale ma c'è la mia vita su sto gioco mestieri i due l'osso infermiera l'osso e l'infermiera l'osso è quella dell'osso raga si è giusto ciume eccoli mamma mia marzo perché devi sempre cliccare eh si bravi perché devi cliccare subito marzo mazza che ciola che abbiamo preso io vi potevo smorfare subito acqua 3 porco dio c'era oasi eh quell'osi era brutto ma perché io non c'avevo corona e mi bloccava tipo tutto grazie a tutti 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 grazie a tutti